Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo di nuovo il volantino della Lidl con gli utensili della Parkside. Questo è il volantino con l'uscita compresa tra il 10 gennaio e il 16 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio ci saranno delle belle novità. Una in particolare, guardatela qua, l'abitatore con il mandrino angolare, ora lo guarderemo per bene. Vi ricordo come sempre che ci possono essere differenze tra una città e un'altra per quanto riguarda le forniture degli utensili e io non conosco in quale città verranno forniti gli utensili e in quali no. E ovviamente le differenze saranno minime, quindi può esserci un utensile in meno o in più in base alla città nella quale vi trovate. Fatta questa premessa, guardiamo il volantino e vediamo cosa troviamo. Iniziamo. Andando direttamente a pagina 20 del volantino, troviamo quindi i nostri utensili della Parkside. In basso a sinistra c'è una nota che ci avvisa che nonostante l'attento approvvigionamento, alcuni utensili potrebbero finire prima del previsto. In alto a sinistra troviamo il primo utensile, trapano, avvitatore, angolare, ricaricabile. Questa è una novità, non avevo mai visto questo utensile della Parkside, neanche su internet. Allora si tratta di un vero e proprio trapano avvitatore con una forma particolare, solitamente siamo abituati agli avvitatori che hanno la forma di pistola, questo invece è dritto ed ha il mandrino angolare, quindi ci permette di posizionarlo su diverse angolazioni. Regolabile a 0 gradi, 22 gradi e mezzo, 45 gradi, 67 gradi e mezzo e 90 gradi. Sicuramente premendo questo tastino sarà possibile farlo scorrere di uno scatto e quindi impostare l'angolazione che ci necessita. Non sarà un trapano avvitatore molto potente. Questo tipo di utensili solitamente si utilizzano per raggiungere dei punti difficili. Vista la regolazione del mandrino è possibile utilizzarlo come è raffigurato in questa immagine, per esempio fra due mensole, nelle quali non potrebbe passare assolutamente un normale avvitatore, invece in questo modo posizionando il mandrino a 90 gradi possiamo riuscire sia a praticare dei fori che ad avvitare delle viti. L'unica cosa che va in contrasto con la comodità del mandrino è la dimensione, perché vedendo sia la proporzione con la mano della signorina che con il mandrino, mi accorgo che effettivamente il corpo sembra un pochettino grande, a meno che non abbiano montato un mandrino molto piccolo e quindi sia un'illusione. Comunque conferma del fatto che è un avvitatore, trappa un avvitatore che non serve per fare dei lavori gravosi, leggendo le caratteristiche tecniche possiamo vedere che avrà solo 11 Nm di coppia ed è una coppia perfettamente adeguata nei lavori per esempio di montaggi di mobili eccetera. L'unica cosa che non ho letto è se ha o meno la frizione, ma mi sembra assolutamente no. Quindi 11 Nm non sono sufficienti eventualmente per fare dei lavori gravosi, ma potrebbero risultare troppi per fare dei lavori delicati, quindi il montaggio per esempio di alcune menzole all'interno di cassetti, insomma tutte quelle situazioni nelle quali abbiamo bisogno di dosare la forza. L'unica cosa che mi incoraggia è che leggendo che avrà un numero di giri da 0 fino a 1300 avremo sicuramente la possibilità di regolare il numero di giri tramite il tastino e di conseguenza anche la coppia, però non sarà una regolazione fissa. Solitamente con la frizione impostiamo la coppia massima e sarà sempre quella, anche premendo al massimo il tastino la vita comunque entrerà sempre fino ad un certo punto. In questo modo invece dovremo sempre comunque regolare la forza, comunque sarà tutto un utensile da scoprire. Dichiara un diametro massimo di forature ai 10 mm nel legno e un massimo diametro di vite da 6 mm. Poi bisogna vedere anche la lunghezza della vite da 6 mm. Verrà venduto senza batterie e senza cariche batterie. A 27,99€ quindi se dovesse funzionare bene potrebbe essere una buona soluzione per chi fa quei lavori dei quali è necessario appunto utilizzare un avvitatore che raggiunga punti difficili. Più in basso invece troveremo le batterie da 12 volt. E in questa uscita di lunedì 10 gennaio troveremo diversi utensili che utilizzano queste batterie. Sarà possibile acquistare la batteria da 2A con carica batteria a 19,99€, la batteria da 4A a 22,99€ oppure la batteria singola da 2A a 14,99€. Personalmente consiglio di utilizzare la batteria da 4A perché ci dà anche uno spunto in più su alcuni utensili. Quindi se siete in dubbio di acquistare uno o l'altro il mio consiglio personale è quello di acquistare la batteria da 4A. Poi ognuno di noi deciderà in base alle proprie esigenze. Tra l'altro avendo la base più grande permette anche di mettere in piedi eventuali avvitatori, lampade eccetera. Sulla destra invece troviamo la sega circolare ricaricabile che vi ho già recensito. Ve la faccio vedere. Utilizzata, sfruttata, funziona benissimo. L'ho usata come vedete dalle condizioni. L'ho utilizzata davvero moltissimo. Non mi ha mai dato alcun tipo di problema se non quello ovviamente di avere un limite. È un utensile da 12 volt. Non possiamo immaginare di avere fra le mani un utensile a corrente elettrica. Quindi avrà i suoi limiti. Se questa a differenza di quella avrà per esempio la battuta parallela con questi inserti in plastica e qualche altra piccola differenza che comunque sono delle migliorie rispetto a quella che già vi ho recensito. Vi lascerò il link giù per poter vedere il video della recensione. Avrà un numero di giri a vuoto da 1400 al minuto, un angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi e la massima profondità di taglio sarà di 26 mm a 0 gradi e 17 mm a 45 gradi. C'è anche una piccola descrizione nella quale ci dicono che monta delle lame da 85 mm di uso comune, l'avvio è morbido e regolato elettronicamente, quindi soft start, e ha una lampada led integrata per illuminare la zona di lavoro. In dotazione verrà data una lama da 85 mm di diametro con un foro centrale del diametro di 15 mm. La battuta parallela, un adattatore per l'aspirapolvere esterna, che è questo pezzo nero che va montato sulla parte alta, e una chiave a brugola che servirà a smontare la lama. E a destra dello stesso utensile ci sono le lame di ricambio. 4,99€ set da tre pezzi, con diverso numero di denti, diversa tipologia, quindi 85 mm di diametro e 15 mm di foro centrale. Più in basso invece troviamo delle punte di trapano. Un set misto da muro e per legno, e di un set solo per metallo. 9,99€ set da 19 pezzi e da 18 pezzi. Io le utilizzo, l'avete visto tante volte in garage dietro di me, ci sono queste due scatoline rossa e nera appese alle mie spalle, e le utilizzo effettivamente per lavori obbistici, vanno bene però sono punte economiche, non possiamo immaginarci di avere fra le mani chissà che cosa. Altrittanto queste punte a 2,99€, per lavoretti sporadici in casa vanno più che bene, tra l'altro queste hanno il codolo esagonale, quindi ci permettono di utilizzarle anche in quegli avvitatori che non hanno il mandrino serrante, ma che hanno l'innesto esagonale appunto da un quarto di pollice. Sulla destra invece troviamo delle punte performance, queste le faccio vedere di presenza. Allora le ho utilizzate tante volte, queste sono della Bosch, queste sono Parkside, come vedete come vi dico sempre in ambito hobbistico, le punte più utilizzate sono su per giù fino alla punta numero 8, la punta numero 12, è un po' meno diffusa, in questo caso nella Bosch, ve le faccio vedere perché si somigliano tantissimo, e hanno su per giù la stessa destinazione di utilizzo, nella Bosch ho utilizzato praticamente tutte le punte, tranne quella numero 12. Sono delle punte particolari, perché ci permettono di lavorare tranquillamente sul metallo, sul legno, sulla pietra, sulle piastrelle, sulla plastica, su diversi tipi di materiali, e sono adatte anche per la percussione. Personalmente mi sono trovato benissimo, tutte quelle volte che l'ho utilizzata, l'unica differenza fra questo set, e quello che verrà venduto, è che questa ha la colorazione bianca, mentre l'altro avrà la colorazione rossa. Per il resto saranno lo stesso tipo di set, con la stessa dotazione, le stesse misure eccetera, quindi delle punte da trappano, che vi danno delle prestazioni in più, per quanto riguarda il risultato finale, ma che vi permettono anche di poterlo utilizzare, su diverse superfici. Poi ci saranno anche delle punte per legno, per me fantastiche. Funzionano bene, sono fatte benissimo, prendiamo la punta numero 8. Guardate la differenza fra questa punta, la qualità costruttiva è decisamente migliore, anche alt'alto, questa è molto molto più tagliente, rispetto a questa, e anche all'estremità, ci sono queste due sporgenze, che ci aiutano ad avere un foro perfettamente circolare. Anche queste funzionano bene, ma queste hanno un punto in più. Funzionano meglio, e soprattutto queste sono davvero dritte. E andiamo alla pagina successiva. Troviamo la lampada LED ricaricabile da lavoro. Anche questa ve l'ho già recensita, ne possiedo ben tre. Mi ci trovo benissimo. Questa volta verrà venduta, senza batteria, 9,99€. Secondo me andrà a ruba, perché è una lampada molto, molto ricercata, funziona con le batterie da 12V, sia da 4 che da 2A, in questo caso ovviamente la differenza, non sarà sulla luminosità, ma sull'autonomia, quindi sulla durata della sua luminosità. La batteria va inserita semplicemente facendola scorrere nella parte bassa, ed è possibile regolarla con degli scatti, in base alle nostre esigenze, e ha questi scatti molto decisi, che gli permettono di mantenere la sua posizione, anche muovendola e agitandola, la parte superiore non si sposta. L'accensione l'ha fatta da questo tastino, ed è possibile regolare la sua luminosità su due livelli. Premendo il tastino una volta, e rilasciandolo avremo la luminosità massima, invece mantenendo premuto col stesso tastino, la luminosità si ridurrà, aumentando ovviamente l'autonomia. Quindi in questo modo si è ridotta, ci permette di avere una luminosità molto molto più duratura. È dotata anche di due magneti, che ci permettono di fissarla su diverse superfici, e ha un'ottima tenuta. Tra l'altro ha anche una clip, per poterla fissare su una cintura, sparlina dello zaino, eccetera, e ha anche un foro, che ci permette di fissarla, eventualmente sfruttando la filettatura dei tre piedi. Quindi un foro da un quarto di pollice. La stessa delle macchine fotografiche. Davvero un'ottima lampada. E lo stesso morsetto che ho utilizzato, per farvi vedere i magneti della lampada, sarà in vendita lo stesso giorno. Disponibile in due set, da due o da quattro pezzi. Quindi avremo la possibilità di acquistare i morsetti grandi, oppure il set con la combinazione con i morsetti più piccoli. E come dimostrato in più di una recensione, questo tipo di morsetto funziona bene, in tutte quelle situazioni, nelle quali per esempio, dobbiamo stringere dei pezzi da incollare, dobbiamo mantenere fermo qualcosa sul quale dobbiamo lavorare, però obiettivamente non sono dei morsetti che hanno una grandissima tenuta. Se soggetti a vibrazioni tendono ad allargarsi, e con un utilizzo intenso, poi i più vecchiotti, va a finire che una volta messi in questa posizione, scivolano e si richiudono da soli. È possibile comunque utilizzarli, io continuo a sfruttarli senza alcun problema. L'importante è non imprimere mai una forza eccessiva, perché questa plastica, da questo punto, rischia di spezzarsi. Come vedete, nella parte nella quale è necessario avere più forza, manca del materiale, quindi si rischia, forzando eccessivamente, di danneggiarli. Ma per un utilizzo normale, se non ho utilizzato una forza bruta, allora vanno bene. Poi ci saranno anche dei guanti da lavoro in cuoio, protettivi categoria 2, palmo della mano e dita in cuoio, imbottitura 3M, T-Insulate, non so cosa sia, se andranno dalla misura 8 fino alla misura 10. Costo 6,99€. E questo tipo di guanti in cuoio, per esempio, vanno bene quando si utilizza il flex, per toccare i pezzi appena tagliati con flex, perché si surriscaldano, quando dobbiamo maneggiare qualcosa che è potenzialmente appuntito, quindi per evitare di pungerci, raccogliere della legna, che potrebbe avere delle spine, eccetera. Sono dei guanti universali, che si adattano un po' a tutto, però occhio perché non sono guanti antitaglio, e in base al tipo di lavoro che dovete fare, informatevi, documentatevi, acquistate eventualmente guanti specifici. Più in alto invece, ci sarà una lampada LED con powerbank, molto simile alla lampada che vi ho già recensito, sempre della Krivit, il modello che si ricarica con la base, diventa lampada di emergenza, in questo caso invece, avrà una custodia, ha lo stesso sistema di contatti, e mi sembra praticamente la stessa lampada, solo che anziché avere 1000 lumen, ne verrà 500, e avrà questa custodia, quindi ipotizzo che questa custodia, debba fornire energia alla lampada, per ricaricarla, e che avrà un'uscita, che ci consenta di ricaricare, per esempio i nostri cellulari, eccetera. Però non la conosco, non l'ho mai avuta, quindi sarà una lampada, che vedremo eventualmente, più avanti in un video, e costerà 17,99€, questa nell'ultima versione, era stata venduta scontata, a 14,99€. Più in basso invece, troviamo degli organizer, per il bagagliaio, quindi dei sistemi AL, che ci permettono, di posizionare in modo ordinato, all'interno del bagagliaio, ciò che riponiamo, evitando che tutto si sposti, all'interno del nostro baule. E per rimanere sempre aggiornati, non solo per quanto riguarda, gli utensili della Parkside, ma anche per promozioni, sconti, errori di prezzo, e tanto altro, che vado trovando su web, unitevi al mio gruppo Telegram, vi lascerò il link, nel primo commento di questo video, e nella descrizione, cliccando sul link, si aprirà l'applicazione di Telegram, basterà cliccare su unisciti al gruppo, automaticamente ne farete parte. Quindi, con questo video ho finito, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato interessanti, anche gli utensili, le mie spiegazioni, anche se non molto approfondite, però, diciamo, è più che altro la lettura di un volantino, non sono delle recensioni. Le recensioni, invece, le troverete più avanti, man mano che vado acquistando gli utensili, ve le farò trovare qua, nel mio canale. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato utile, vi abbia tenuto compagnia, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, mettere mi piace al video, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo, e a presto.